e la cintura c'è, c'è la cintura c'è il telefonino dove devi tenervi? in borsa, in borsa noi abbiamo il partner ufficiale Radio FM Valeria che vogliamo ringraziare e sono circa 9 anni che ci seguono con le autostoriche in tutta Italia e poi ho scoperto che da poco Salve Parigi farà da sponsor a Popcom certo, sicuramente, provvederemo prima di tutto anche perché adesso, per ora abbiamo questa posizione ciclo che ci potete dire e vedere tutti i giorni e ti voglio dire un bel sito in Salve Parigi tranquilla, tranquilla non poco grazie Lucia Gallucci grazie a voi grazie a voi grazie a voi e poi vedete c'è un posto di area spesale area spesale alle prese burocratiche allora, io ringrazio voi per essere veniti qui per aver contato questo messaggio per averci soprattutto ricordato di questa festa delle prebiate dal 4 al 7 luglio quindi non mancate siano delle monta verde monti giorgi grazie a voi stai scherzi Grazie.